Stefano Vicari, coordinatore cittadino di Forza Italia, lascia al Consiglio di Amministrazione di ASF Autolinea, la società di trasporto pubblico che gestisce gli autobus in provincia e in città di Como. A giugno le nomine nei CDA delle partecipate del Comune, tra le quali quella di Vicari, avevano suscitato malumori e perplessità in minoranza. Ma Vicari spiega che la sua decisione è dettata da motivi strettamente personali e non legati a pressioni politiche. Al massimo, commenta l'esponente di Forza Italia, ho ricevuto richieste in senso opposto. Sono stato invitato a restare, ma ho fatto la mia scelta ormai, solo ed esclusivamente per motivi personali. Nessuna pressione o frizione politica. Avrò più tempo, conclude Vicari, da dedicare alla mia professione di commerciante e al mio ruolo politico di coordinatore cittadino di Forza Italia.